Buongiorno e grazie, sono un po' emozionata per questo momento così elevato e ricco di emozioni. È un onore innanzitutto essere qui davanti a voi per aver ricevuto questo premio meraviglioso. Questa opera che ho voluto rappresentare è un sentimento che sento in maniera molto forte che riguarda e abbraccia diverse tematiche, dalla liberazione alla libertà di agire, dalle sfumature, dalla ricchezza e dalla diversità delle persone. Pertanto le varie cromie rappresentano proprio la diversità delle persone. I toni chiari rappresentano la luce, la luce che tutti dobbiamo avere al nostro interno. Pertanto non solo l'oscurità, l'opacità ci deve rappresentare nel quotidiano, ma anche la luce deve essere parte di noi. Deve essere proprio quella parte che ci illumida, quindi anche la speranza. Pertanto visto che sono motti che fanno parte della mia vita e le sfumature lo sono altrettanto, questo lavoro mi rappresenta e è un omaggio che ho voluto fare per questo concorso che voi avete capito e compreso. Grazie. 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 Grazie.